Termina qui l'estate 2020. Le feste di Ferragosto sono state una valvola di sfogo per quanto concerne la socialità e un sollievo per il portafogli di chi lavora nel terzo settore e che a causa delle restrizioni non aveva potuto mettere completamente a frutto questa stagione. Da ieri però, a seguito della videoconferenza con le regioni, il ministro della salute Roberto Speranza ha emesso una nuova ordinanza che di fatto pone fine agli eventi estivi. Stoppa le danze, almeno fino al 7 di settembre, sia all'aperto che al chiuso, che si organizzino in discoteca, nelle sale da ballo, nei bar, negli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere, nelle piazze o in altri locali aperti al pubblico. Nuova stretta anche sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Adesso è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, in tutti quei luoghi dove possa sussistere il rischio di assembramenti, seppur siano spontanei e occasionali. Mascherina a coprire naso e bocca, quindi, mentre si infila davanti a un esercizio commerciale, mentre si passeggia sul lungomare o ci si rilassa in piazza, mentre si fanno le cosiddette vasche lungo il corso o si partecipa a un evento con pubblico. La particolarità, però, è che l'obbligo permane solo di notte, dalle 18 alle 6 del mattino e la specificità degli orari ha già suscitato l'ironia dei social e le perplessità di alcuni esperti. Il virus non è un fornaio che lavora solo di notte, fanno notare alcuni. Ips e Dixit, però, è nell'ordinanza ministeriale esplicitato che non sono ammesse deroghe mediante ordinanze regionali. Le nuove regole, insomma, valgono per tutto il territorio italiano e le regioni dovranno solamente applicarle senza alcuna modifica. L'Abruzzo ha chiesto di limitare i divieti, ma non potrà far altro che accodarsi alla strategia del governo nazionale, che ora corre ai ripari dopo il preoccupante innalzamento del numero dei contagi, a testimonianza di quanto l'emergenza coronavirus sia ben lungi dall'essere solo un brutto ricordo. L'ordinanza, però, di certo non ha raccolto consenso unanime. Insorgono in primis i gestori dei locali e gli organizzatori di eventi. Con lo stop si rischia di mandare in fumo 4 miliardi, fanno sapere gli operatori della Movida, che ritengono di essere solo dei capri espiatori, mentre gli assembramenti potrebbero ancora verificarsi sulle spiagge, in altri tipi di locali o nel corso di eventi auto-organizzati, proprio per supplire alla mancanza di discoteche simili. Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso, ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, nel corso della riunione con i governatori. Ma non vedo alternative e faremo il possibile, ha aggiunto il ministro, per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto agosto.